Grazie per questo podium, un finale di rinforzo, perché hai un contatto. Sì, è stato un buon rinforzo, le ultime corner sono un po' vicino, ma sono felice che ho potuto andare da P14 a P3. Cio è un buon rinforzo, la tutta la rinforza ho fatto a me, ho cercato di mantenere il rinforzo. Ma sì, abbiamo rinforzato a rinforzo, che è molto bello per il team. Quindi, i prossimi gol? Sì, spero di avere due più, è bello di stare sul top step. Ma sì, sono davvero felice che questo weekend è venuto. Spero di ringrazio a Jack, il mio meccanico, il mio padre, il mio padre, la mia famiglia, e senza loro non sarebbe possibile. Congratulations, Anthon. Grazie.